secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie non andare sull'uno per favore mi è andato sull'uno è andato sull'uno e chiedo arfi ma c'è ragione bro arfi ma arfi lo so lo so bro ma in verità sto moderando molto il mio modo di giocare ultimamente questa sera è una serata un po' particolare però 20 per il ritiro 20 per il ritiro 20 per il ritiro dai cucciolo vola il 50 questo è il 100 bro questo è il 100 questo è il 100 fra lascialo volare questo è 100 questo è 100 fra fidati 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 tu sei veramente scemo tu dove stai zitto ma porco dio sono 700 euro 100 bro 100 schiaccia mezzo stipendio se sbagliavi cliccare probabilmente che non te l'ha preso e volava non vanno d'accordo è si no perchè la trolla così era prima e adesso mamma mia bra bra eravamo gli ultimi probabilmente che non avevamo preso più niente eravamo gli ultimi che erano ancora lì dentro vai due peri easy un botti un botti hai preso i dati un botti si ma se il passo ci farà uccidere come i cani a parte comunque si ti sto per segnalare cosa cosa devo essere sincero è un evento che un po' mi turba non mi sentivo rubato così tanto da un po' bella Gabe puoi dire a Francesco che è un cuglionazzo? Francesco sei un cuglionazzo big win big win quant'è? non lo so un sacco fra sono ricco pro sono ricco mega win 15 euro 15 15 che incredibile mi spiace Assunta è brutto ma come mai perché sei positivo al covid ma male che l'hanno trollata c'è ragione corse fanno sono troppo aggressivo bro c'è ragione bro ok tutto a posto di chi è il saldo ragazzi? mio di Tudor oh pilotata sul 4 rolls no troppo lento troppo lento allora ti metti in piedi attenzione Anna attenzione che può essere pericoloso guarda guarda 73737373737373737373737373737373737373 si guante cicciottolo sto coin flipx3 Ma che cazzo fa Ma che cazzo fa sto scemo Ma che cazzo fa sto scemo Vabbè Che schifo comunque dai fai 30x almeno Fai 30x non fare il coglione Brava cucciola Brava cucciola Brava cucciola Bel 30x goloso in massiccio che ci pigliamo e portiamo a casa Oddio Che cazzo dice Che cazzo dice bravo Ma che cazzo dice bravo Ma che cazzo di Porco dio Porco dio Porco dio sta slot di merda Che cazzo ha fatto Con 75 Porco giuta Porco dio posso dirlo porco dio Ancora adesso posso dirlo porco dio su twitch Fammi dire porco dio perché porco dio non è possibile Che faccia così schifo Porco dio E' un porco E' un 500 adesso ce la pagano Da 500? Non so come si giochi a cricket ragazzi E' come se giocassi a una slot bro Se tu lo vuoi tu lo sarai Una di noi Grazie Ma che cazzo Ma che cazzo vuoi fare in culo Come si toglie Ma cos'è tutta scema Ma che è Cucciola Cioè va bene che non devi fare la scala 3 giudice Non devi fare la goal digger no Ma cosa significa Ma che cazzo di problemi c'ha Ma non lo so raga Ma tutta pazza Ma cos'è sta cringio Ma no Massimo Io non volevo Vabbè Ma che cazzo è questa cringio Guarda Ma no Tutto Perché oggi che torna? Ah è San Valentino Sì ma Il circo L'1 dopo il 2 Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Grazie a tutti.